ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video io sono one sunny tube e vi do un benvenuto in questo canale prima di tutto iscrivetevi al canale per non perdere nessun contenuto che pubblico nel canale la maggior parte di voi ragazzi guarda i video non si iscrive al canale non mette mi piace siamo a 233 iscritti se volete che sottoscritto faccia un ulteriore spoiler sul canale arriviamo a 250 iscritti naturalmente confido in voi parlo per tutti voi tifosi qualunque squadra voi tifiate l'importanza è iscriversi al canale naturalmente più iscritti siamo meglio è e non obbligo nessuno all'iscrizione del canale anzi a una vostra scelta libera se iscrivervi o meno e niente oggi ragazzi post partita milan sassuolo ragazzi 6 a 1 no non 2 a 0 3 a 0 è 6 a 1 ma prima che io vi dica questo ma abbiamo vinto contro una squadra che ha fatto un ampio turnover perché grosso ragazzi grosso decisamente non aveva l'obiettivo di vincere la competenza perché naturalmente tu giustamente sei primo nel campionato della serie b da in più priorità al campionato giustamente e però onestamente non me l'aspettavo questo ampio turnover del sassuolo perché comunque è sempre stata una delle bestie nere per le milanesi sia per milan anche per lì che per l'iter ma anche per altre squadre e mi ricordo ancora juve sassuolo ragazzi ai e no sassuolo juve perdona ragazzi mamma mia mamma mia una delle cose surreali è vincere 6 a 1 ma ok tu hai vinto contro sassuolo che manco che manco una che manco quei giocatori lì dovrebbero giocare in serie a b però giustamente tu vinci 6 a 1 e lo vinci strafando con verso i primi minuti poi vabbè prima c'è stato un gol un gol fuori gioco scusatemi e poi vabbè poi dopo c'è stato un golaso da parte di tigiani raiders ragazzi io sto diventando tigi sessuale sto diventando tigi sessuale ma ragazzi che giocatore è questo qua che giocatore è raga si sente è veramente uno dei pilastri di questo milan cioè pulisic raiders per me sono imprescindibili in questo milan imprescindibili non che ho voglia di mancare rispetto per gli altri giocatori assolutamente no ragazzi c'è questi due qua stanno facendo ma 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 c'è nel senso carburano 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 e come c'è ecco e come diciamo no è bello è bello poi dopo il terzo gol doppietta doppietta ciò che già fatto doppietta ragazzi ciò che ha fatto doppietta ciò che ha fatto doppietta poi dopo 4 a 0 leao leao l'abbiamo chiusa solo 4 a 0 naturalmente perché ormai tanto sessualeo cosa vuoi fare cosa vuoi fare con quella scuola di fare quattro gol uno degli ottavi meno visti negli ultimi dieci anni meno visti ma non lo so non sono molto d'accordo con one football però diciamo che comunque primo tempo già già è messo già in chiave la qualificazione verso i quarti no dato che comunque venerdì c'è una trasferta insidiosa a bergamo e lì è veramente dura affrontare la squadra di giampia l'atalanta l'atalanta io 19 dicembre dicembre 2019 se non erro lì c'è stato un risultato assai negativo 5 a 0 dell'atalanta contro di noi 5 a 0 io non vorrei che si ripeta una cosa del genere io non vorrei che si ripeta una cosa del genere poi cosa dovrei dire di diciamo che poi il secondo tempo comunque sì ci sono stati gol l'altro 5 ha segnato davide calabria ragazzi davide calabria ha segnato ma allora il multiverso esiste o sbaglio cioè calabria persino segnato contro sassuolo cioè io non so più cosa sia reale io non so più cosa sia reale ragazzi calabria segnato contro il sassuolo è un miraggio questo se è un miraggio allora o se è un sogno o se ok è reale è reale è reale è reale è reale è reale perché mi sono fatto male ma è reale ragazzi è reale calabria segnato calabria segnato contro sassuolo ma allora non è un sogno è incredibile sta cosa vabbè poi quelli là dopo fa 5 a 1 per un erroraccio di terracciano bollattieri segna e poi il sesto gol arriva con tamir abram e lì abbiamo vinta che dire era minimo indispensabile vincere questa partita qua quindi bisogna lavorare 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 pedalare con i piedi per terra anzi no non pedalare con i piedi per terra cioè rimanere con i piedi per terra perché venerdì c'è una partita veramente tostissima tostissima e vi dico già tostissima perché ragazzi è una partita da dentro fuori per la corsa champions perché se tu perdi contro l'atalanta è il rischio della qualificazione champions è già altissima è già altissima e ahimè non vorrei che la perdessimo ma se la pareggiamo equivale a una sconfitta equivale a una sconfitta per pareggiamo la partita con l'atalanta e secondo me è il turno comunque di per carità se la se l'atalanta dovesse vincere lo scudetto per me ben venga per me ben venga aprendo un po questo questo capitolo qua perché l'atalanta ragazzi si sta dimostrando non è non è una sorpresa per me perché già negli ultimi anni tu hai vinto l'europa league l'ultima hai vinto l'europa league no battendo l'everkusen che comunque tu dicevi tanto vincerà l'everkusen contro l'atalanta perché sono imbattuti to tacchete tripletta di lupman questo è il calcio ragazzi questo è il calcio non è una scienza esatta non è non è non ci sono pronostici giusti di sbagliati però ragazzi è sempre al campo parlare però ragazzi alla tanta gli puoi dire solo complimenti perché stanno facendo veramente un campionato campionato bellissimo per quanto riguarda sassuolo ragazzi poche parole poi chiudo il video il sassuolo è stato sempre vabbè l'ho detto è sempre stata una bestia nera per qualunque b di serie a e soprattutto per juventus milan e inter e in più comunque stanno facendo un grande campionato questo è elevato in serie b e prima o poi questi qua saliranno perché sassuolo ragazzi da dieci anni ormai è giusto che salgono è giusto che salgono perché se stanno facendo un campionato del genere contro con tutto rispetto per pisa sampdoria e le altre squadre con tutto rispetto al sassuolo e sale salernitana tutto rispetto già parlato qualcosina del sassuolo appuntamento per dopo ragazzi per milan e impoli perché non ho ancora fatto non ho ancora registrato nulla del post partita è colpa mia ragazzi me ne assumo le mie piene responsabilità ho già detto tutto iscrivetevi al canale per non perdere nessun contenuto che pubblico la maggior parte dei ragazzi guarda video non si iscrive al canale non mette mi piace siamo a 233 iscritti se volete che sottoscritto faccia un ulteriore spoiler sul canale arriviamo a 250 iscritti naturalmente confido in voi parlo per tutti voi tifosi qualunque squadra ovviamente non è importanza l'importanza è iscriversi al canale più iscritti siamo meglio è ovviamente non non obbligo nessuno all'iscrizione del canale anzi potete anche non iscrivervi al canale oppure no cioè potete iscrivervi al canale oppure no tanto a me non cambia nulla ci vediamo dopo per milan e impoli post partita davanti al salito